Il riconoscimento onorifico più alto Le chiavi della città Una pergamena che rimarrà a lei Un'altra, se ce la vorrà firmare e autografare La conserveremo nel nostro museo della città di Savoca Assieme al ciak originale delle scene girate a Savoca Ha tutto perfetto Grazie, grazie anche al nostro sindaco Grazie, noi abbiamo ancora un'ultima sorpresa Grazie a tutti Grazie a tutti